carissimi videomaker mediocri per me è un piacere darvi il benvenuto sono scotz come sempre io sono etto e benvenuti all'episodio 4 di scotzetto vogliamo semplicemente dirvi che siamo al the shore si siamo al geordie shore comunque noi ci troviamo qui a parte il geordie shore siamo al the shore come potete vedere esattamente qui alle nostre spalle è la parte finale del water of leaf che il fiume di edimburgo si può smettere di pernacchiare amici di campagna signori di collina siamo qui we just met them this is gabby hey that's it and we're gonna ask them a question about this place since they are locals and they live nearby so what do you think about the shore what is fun to do here what do you do during your time around we just like get drunk and stuff like that that's what we need that's it let's see what there is actually a lot of shit going on that like i did not speak a bit like yeah sorry man c'è una signora è sessantenne dietro di noi che sapevate che questa signora dietro di noi è ferma qui da circa mezz'ora anche se il semaforo è verde perché vuole essere nel video ciao signora terra chiama italia abbiamo poca memoria scusi pensavo non stavi registrando perfetti bello meo continui come tutti voi estate ci stiamo prendendo una pausa quindi riusciremo a portare quasi un video al mese non lo so un video ogni due mesi torneremo comunque a regime totalitario a settembre un video a settimana nicole alla campana la tenda nella leggenda si apri la conserva ci troviamo alle club cari amici ci sono arrivati qui vicino due amici di camille adesso stiamo andando a vedere perché ci fanno vedere il loro bolide ecco il loro mezzo di trasporto andiamo andiamo prenda la sua bici arriva arriva venga venga che c'è una del bmw si allora è un bel macchinino ragazzi è un bel macchinino è un bel macchinino guardate che cerchione è bello prorimpente come il cerchio assapora la strada è davvero una bella macchina adesso ci facciamo fare una sgommatina e qui abbiamo il nostro ragazzo signore eeeh eheeh vuoi essere giovane in youtube? sì è un problema se vi mettiamo il vostro instagram sotto? no 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 non preoccupi puoi nos lo mettere il vostro instagram? ehm se non posso figlioli benvenuti in questo nuovo episodio di macchine e macchine siamo qui oggi con la mia macchina è questa è una macchina nera è una bmw molto nera vedete molto nera, poi c'è i cerchioni molto grossi, sono più grandi quelli della mia bigi poi la fotocopia è stata fatta male perché c'è lo serzo dall'altro lato, hanno specchiato è nulla, questo è quanto, da macchine macchine tutto, ci vediamo Oskar è morto perché qui al The Shore dovete sapere che i locali non stanno solo sulla terra ma anche sull'acqua però tutto il mondo è paese tutta l'acqua è vernice quindi non mi preoccupate è questo qua qua, è il piccolo Mike, sono io, guarda qua si, si, mi ha giocato, mi ha giocato, mi ha giocato, mi ha giocato, mi ha giocato dica, dica sapevate che per ogni macchina che passa da questo incrocio si riducono le emissioni di CO2? di quanto? uno, due, CO2 ragazzi, curiosità che c'è? c'è cosa sta sbroccando piccola curiosità del 19.56 anche nel 56 vedete quest'ancora esattamente qui dietro di noi? durante il tiro universale non era ancora qui ma nel mentre tra un ancoraggio e l'altro di Noel e la sua famiglia un giorno si fermarono proprio su quella che sarebbe stata anni e anni dopo Edimburgo purtroppo la catena si rompe è l'ancora sto qui fino ai giorni nostri onesto figlioli questo episodio sarà un po' diverso dal solito ve lo dico subito ve lo dico in piedi sarà un episodio un po' più diverso quindi pausa ci vediamo a settembre un video a settimana lasciateci fare estate anche a noi ci vediamo a settembre ciao 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 ciao